Bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video Ragazzi lasciate almeno 500 like se volete vedere un altro pack opening Se volete vedere ancora cosa trovo nei premi di Division Rivals, di Food Champions O in generale comunque nei pacchetti Mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella Fatemi sapere nei commenti ragazzi cosa avete trovato voi nei pacchetti Se siete stati fortunati, quanto avete fatto di risultato in base a quello cosa avete trovato Insomma fatemi sapere nei commenti quanto avete sculato e fatemi rosicare Oggi apriremo 6 pacchetti di livello 1 di Division Rivals che quelli di Food Champions Quindi vediamo un pochino come andranno questi pacchetti e vediamo se sarò fortunato Ok abbiamo già salvato i primi di Division, abbiamo messo anche i pacchetti in conto principali Come sapete ragazzi abbiamo fatto oro 1 perché mi sono fermato Perché stavo 18-1, potevo fare 27 ma purtroppo poi ho perso delle partite di troppo Quindi mi sono fermato oro 1 perché volevo questi pacchetti Però sono due pacchetti a 100k abbiamo due scelte giocatore 50.000 crediti ottimi che si possono unire anche agli altri pacchetti Ragazzi vi prego un po' di culo Qua ragazzi ci serve culo, ci serve veramente culo Forza ragazzi scrivetemi tutti quanti secondo voi cosa trovo nel primo player pick Scrivetemelo tutti ragazzi, primo player pick cosa trovo Ragazzi vai primo, chi esce vai scrivetemi in chat È buono? Che ho trovato raga? Ah che schifo Porco Giuda Forse questo è il migliore Hai l'Igalo 4 mostabilità? Era una merda, non userò mai Andiamo di l'Igalo Dai vediamo un po' chi è Ditevi che era Cosa è buono? Mamma che merda Ma il pacchetto è di prima Prendiamo vela È inutile ma è almeno 84 Partiamo subito Ok questo l'ho certo Perché trovo una merda Quello ce lo potevamo anche aspettare Dai Oh Aro raro Vabbè per forza grazie al cazzo il giocatore Aro Ok ragazzi adesso spengo la tele Faccio il pacchetto mega Ditemi in chat Cosa ho trovato Io sento solo se fa casino Anzi lo tolgo dai Non mi spoio Cosa ho trovato raga? È decente? Oh dai Cazzo almeno un walk out Non è granché Però potremmo trovare qualcos'altro nel pacchetto E magari qualcos'è all'ovare Non so quanto vale Carmendino Ah anche gli eramenti Bon Oh Oh Kai Walker Sì così Sì così E andiamo Si vola Kai Walker E Fernandinho In a pack Bono come il pane Oh Alleluia Sono già 100 passagappa Dai così Porca troia Andiamo avanti Porta fortuna sta cosa Schermo spento Vai Ditemi che cazzo ho trovato Datemi un altro cazzo di walk out Che ora ci credo alle cose buone Ditemi chi è Ditemi chi è Ah Dembélé dai Non è male Vale qualcosa Dembélé Anche Anton Anche Danielino Eh Eh Calma Oggi Non dico niente Non dico niente So zitto No dico a cosina Vale perché C'è la cosa Eh Eh Raga Ci siamo E per questo Che non ci siamo qua Questi tre pacchetti Grazie Gianni per il follow E per questi tre pacchetti Che siamo qua Abbiamo già fatto L'abbondare di 200.000 crediti E siamo qua per questi tre pacchetti Siamo qua per questi tre pacchetti Forza Vogliamo i walk out Ditemi cosa ho trovato Questo sicuro è una merda Perché non mi può andare avanti E andare bene Impostante che giocatore Arimax Trovo qualcosa Vabbè uno lo apro Perché lo voglio vedere Uno lo voglio vedere Me lo sento E lo voglio vedere Voglio che c'è il walk out Walk out Walk out Walk out Trovo Tra Inforo Pensavo sicura No Bisogna illuso Sì Era Era di un giallino chiaro Pensavo che fosse icona Wow Wow Fermi tutti Oh Fermi tutti però Eh Vela Vela Mitrovic Gabrielesus Raga È l'ultimo pacchetto della giornata E qua deve uscire l'icona Ditemi cosa esce Denied Oh buono però Skriniar Pangezzavale qualcosa Forse Abbi martì Non è male Poteva andare peggio Poteva andare decisamente peggio Vedendo il passato Però ragazzi che questo video vi sia piaciuto Lasciate like Iscrivetevi Attivate la campanella Passate a tutti i social in descrizione Instagram Twitch Twitch in particolare Perché sono live tutti i giorni E tutti gli altri canali Ricordatevi farmi sapere nei commenti Cosa avete trovato voi E ci vediamo nel prossimo video Bella a tutti Ciao